Noi ci basiamo sul programma, dobbiamo non prendere in giro i romani, quindi saranno nell'immediato futuro se governeremo questa città saranno collaterali molto pesanti, azzereremo tutte le amministrazioni, quindi avremo, i romani devono saperlo, ci saranno effetti collaterali abbastanza pesanti, avremo scioperi, gente che verrà in comune a chiedere il perché, gente che perderà il lavoro, non abbiamo il reddito di cittadinanza perché se avessimo il reddito di cittadinanza andremo alla grandissima, ma devono i romani capire che miracoli qui in questa città non li fa nessuno, poi nell'arco del medio e del lungo termine questa città veramente potrà cambiare.